Bisogna ragionare su come far arrivare maggiori risorse per questi progetti di scavo. Sono iniziative che rappresentano anche risorse dal punto di vista dello sviluppo turistico per questi territori, per attrarre visitatori anche dall'estero. Anche per noi, Università, sarà un interessante banco di prova per ragionare anche sui rapporti di collaborazione con altri atenei europei. A pronunciare queste parole è stato il Rettore dell'Università di Cagliari, Francesco Mola, che ha visitato lo scavo archeologico didattico in corso nel sito di Brunque Somu a Villa Verde. Ad accogliere il Rettore, il Sindaco del Paese del Monte Arci, Sandro Marchi, è il Professor Riccardo Cicilloni, che dirige la nona campagna di scavo nel sito, coadiuvato dal dottore di ricerca Marco Cavras. Brunque Somu è importante villaggio nuragico del periodo del bronzo finale, 1150-900 a.C. Dal 2013 lo scavo si svolge in regime di concessione ministeriale, assegnata al Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali dell'Università di Cagliari. Le attività di ricerca dell'Università di Cagliari si sono concentrate finora su un grande isolato ubicato nell'area nord-est del villaggio, costituito da otto capanne, i cui ingressi si aprono su un vasto spazio centrale, una piazza. Quest'anno alla nona campagna di scavo partecipano per tutto il mese di luglio una cinquantina di studenti dei corsi di laurea in beni culturali e di spettacolo, in archeologia e storia dell'arte e della scuola di specializzazione in beni archeologici dell'Università di Cagliari, ha spiegato Riccardo Cicilloni. Le operazioni vengono effettuate grazie al supporto economico e logistico del Comune di Villaverde, che ha messo a disposizione il vitto ed una foresteria per l'alloggio dei partecipanti.